Ci vede anche lì impegnati nel progettare quello che sarà il futuro di questo luogo, recupero dal punto di vista anche edilizio e quindi ci sarà l'occasione all'interno di questo periodo di visitarlo con delle opere d'arte, prima abbiamo proprio chiamate tele, anche se erano street art, che servivano a vestire quello che era il padiglione di Cibus a Italia presso Expo e che adesso vengono viste tutte in un unico contesto creando anche un'immagine suggestiva. Però le occasioni sono molteplici, quindi vedere questa arte, vederla in un luogo esclusivo perché adesso è chiuso, non essendo ancora stato recuperato e anche la possibilità per tutti quelli che sono i buyer internazionali di avere una cena all'interno di questo contesto. Quindi penso che gli ingredienti per far famosa Parma nel mondo ci sono tutti. Quindi per finalmente quelli che prima venivano a Cibus solo per fare affari, adesso verranno anche a vedere Parma, la città e tutto quanto. Ma questo penso che ci sia sempre stato da un certo punto di vista, ma in questi ultimi anni e per gli anni futuri quello su cui stiamo lavorando è proprio questo. Cioè il buyer al di là di tutti i temi del made in Italy, del food, deve tornare a caso con un'esperienza unica fatta in città, poterlo raccontare e perché no potersi interessare magari a insediarsi proprio in zona per quello che ha visto e ha scoperto e anche rispetto alle rispettive nazioni farsi da promotore per quello che è il nostro territorio. Insomma io penso che le caratteristiche le abbiamo tutte e dobbiamo solo metterle in fila e sfruttarle. Cosa si aspetta da questo evento? Mi aspetto questo per quanto riguarda Cibus che porta migliaia di persone in città. Per quanto riguarda Cibus in favola e quindi la parte off, come l'abbiamo chiamata, quello che è sempre in genere il fuori, il fuori Cibus, il portare questi buyer in giro per la città, in giro per il territorio perché penso che dai castelli a quello che può offrire la bassa e quindi andando verso il fiume Po ci sia un territorio da scoprire e quindi per innamorarsi del vario titolo di tutto quello che possiamo offrire. Due parole ai suoi cittadini. I miei cittadini penso che in questi anni abbiano visto gli sforzi, anche perché vista la crescita ogni anno dal punto di vista percentuale del turismo, di quello che abbiamo avuto come riconoscimento di città creativa della gastronomia UNESCO, questo titolo che è arrivato e che proprio durante il periodo di Cibus e quindi Cibus in favola avremo ospiti, 12 delle 17 città creative della gastronomia che sono in giro per il mondo, nel nostro territorio, per parlare di protocolli d'intesa, per parlare di un lavoro comune, insomma noi vorremmo immodestamente rappresentare per loro un punto di riferimento perché penso che sia l'Italia per i suoi tesori, per i suoi cibi, sia Parma per quello che può esprimere, ecco forse rispetto a Taxon possiamo dire che forse qualche cosa in più ce l'abbiamo. In bocca al Cibus in favola Esatto, in bocca al Cibus in favola a tutti Grazie 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 a tutti.